ciao ragazzi oggi vi presento la nuova pettorina lit 4.5 che protegge sia il torace che la schiena a livello 2 quindi potrà scendere in pista per la stagione 2020 come ben sapete tutti il regolamento motocross 2020 parla ben chiaro quindi le categorie mx1 mx2 e 125 sono obbligati a scendere in pista con le protezioni di livello 2 sia per il torace che per la schiena durante le gare verranno sorteggiati 5 peloti per categoria che verranno sottoposti a un controllo delle proprie protezioni tantissime aziende sono messe all'opera per realizzare appunto queste nuove pettorine per farci scendere nella stagione 2020 qui con noi abbiamo la lit 4.5 ma andiamo a vedere nel dettaglio è una pettorina rigida con struttura multistrado 3d che offre alta protezione a petto schiene e fianchi ma allo stesso tempo comfort ventilazione e libertà nei movimenti il guscio esterno rigido garantisce l'istenza agli impatti mentre l'interno è un grado di assorbire gli urti e di separare l'energia inoltre è compatibile con neck brace ed è dotato di prese d'aria assurda per garantire un flusso d'aria adeguato durante la guida la pettorina è disponibile bianca o nera a 169 euro mentre per i più piccoli c'è nera o arancione a 139 euro ma adesso basta parlare andiamo un po' a girare ciao ciao Grazie a tutti 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 Grazie a tutti